Mentre l'euro continua a precipitare verso la parità col dollaro e la moneta statunitense sembra ormai destinata a perdere il suo ruolo di valuta di riserva per eccellenza, sempre più investitori guardano con interesse allo yuan, un fenomeno che non riguarda solo i privati ma anche le banche centrali, come rivela un sondaggio effettuato dalla svizzera UBS per il Financial Times. Dalla ricerca emerge che l'85% dei gestori di questi fondi o sta già facendo affidamento sulla moneta cinese o si sta comunque apprestando a compiere questo passo e a farne le spese ovviamente sarà il dollaro americano. La ragione adotta dagli intervistati è che il mondo e i suoi rapporti di forza stanno cambiando. Il sistema unipolare che finora si è retto sul dollaro si sta infatti sgretolando sotto i colpi delle sanzioni occidentali contro la Russia e mentre il rublo vola a livelli che non toccava da quasi cinque anni l'inflazione statunitense sta rafforzando anche lo yuan, moneta che ormai viene usata anche in transazioni commerciali fra paesi terzi. Le riserve della valuta del gigante asiatico stanno già aumentando nei forzieri virtuali di mezzo mondo dal Brasile a Israele passando per la Russia. A scendere invece è proprio il dollaro che non sparirà da un giorno all'altro ma si vedrà comunque costretto a fare i conti con monete concorrenti. Il monopolio della divisa americana tradizionalmente ancorata al petrolio sta quindi saltando tanto che l'Arabia Saudita è già in trattative con Pechino per farsi pagare il greggio in valuta cinese. La dedollarizzazione del pianeta è quindi già iniziata e va di pari passo con la fine della globalizzazione e con l'instaurarsi di un nuovo ordine geopolitico innescato dal rifiuto di Mosca di continuare ad abbassare la testa di fronte a Washington. Grazie a tutti.